Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il delfino è un mammifero marino appartenente alla famiglia dei delfinidae. Noti per la loro intelligenza e spesso caratterizzati da un comportamento giocherellone, i delfini possiedono un corpo allungato, una pinna dorsale distintiva e un muso allungato che ricorda un sorriso. Comunicano tra loro attraverso una serie di fischi e click, utilizzando l'ecolocalizzazione per navigare e cacciare nelle acque marine. I delfini variano in lunghezza da 150 a 200 cm e pesano tra i 75 e i 235 kg, con una durata di vita che può raggiungere i 25 anni. Il loro corpo è idrodinamico, adatto a una rapida nuotata, con colorazioni che vanno dal grigio chiaro al blu scuro, contribuendo al mimetismo nel loro ambiente acquatico. La forma e la dimensione del corpo possono variare significativamente tra le diverse specie. I delfini sono predatori carnivori che si nutrono principalmente di pesci, calamari e scorupiachi. La loro dieta può includere anche piccoli mammiferi marini. Utilizzando strategie di caccia cooperative, i delfini sono in grado di intrappolare banchi di pesci, rendendo più facile la cattura. I principali predatori dei delfini includono alcuni squali e orche, sebbene la minaccia maggiore provenga dalle attività umane, come la pesca eccessiva e l'inquinamento. I delfini sono diffusi in quasi tutti i mari e gli oceani del mondo, dalle acque fredde vicino ai poli fino alle regioni tropicali e temperate. Prediligono le acque aperte e profonde, ma si possono trovare anche nelle acque costiere, estuari e occasionalmente nei fiumi. La loro presenza è segnata da una grande adattabilità a diversi ambienti marini, dimostrando notevoli capacità di sopravvivenza e adattamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti